Ciao a tutti e benvenuti al nostro cookie. Oggi facciamo un buon tiramisù. Cominciamo a preparare il caffè. Aggiungere lo zucchero, separiamo il tuolo e albume. Con metà dello zucchero è ad ammontare albume fino al neve ferma. Lo stesso con il tuolo finché è chiari e spumosi. Aggiungere un po' di vaniglia e mixare. Poi ammontare la panna. Aggiungere mascarpone e mixare. Mixare tuorlo e panna. Aggiungere albume montato e mixare come sto facendo io, con i movimenti da basso in alto. Ecco pronto la crema. Con dello savoiardi inzupare nel caffè. Prendere una taglia e aggiungere i savoiardi e sopra uno strato di crema. Ripetendo per tre strati circa. Alla fine colpaggere del cacao. Ecco pronto il nostro tiramisù. Tu hai imparato la ricetta? Se vi piace ricordate del like e seguirci. Ciao! Ci vediamo alla prossima! Pladere, in unander Washington. Unoida d'attnak... Avate 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 colours. fitz con il lo scor gelo che vuole con la scomperta. Cuida il nasce il noggio. Si, «Essi ai澤i» type i compressi, te video e Liberal numero 2!" Vi risparate. Grazie a tutti.